buongiorno e buonasera e buon ascolto benvenuti ad all'ora di amadeus questo è un podcast scaricatelo ascoltatelo anche quando andate per strada e riempite la vita buongiorno e buonasera signore e signori amadeusiane amadeusiane all'ascolto dipende se il buongiorno buonasera dipende dalla latitudine dalla longitudine benissimo benissimo ricordatevi di mettere like su 123 stream ricordatevi ricordatevi di iscrivervi ai nostri gruppi i nostri canali all'ora di amadeus il salotto della morghi e quelli che eroi abbiamo con noi per parlare della loro musica vincenzo dei monolite eccoci qua ciao luca ciao tutto bene è tutto bene e tutto bene tutto a posto dai senti siccome io ascoltando la vostra musica un po il treno il rumore del treno me la ricorda in qualche modo e siccome nella sigla c'era un treno e posso chiederti che cosa quale l'ispirazione che ti dà un treno beh sicuramente no hai ragione cioè abbiamo molte sonorità abbastanza non so che che si muovono che so dritte che che ti trascinano forse questo il treno che si portano che ti portano da un'altra parte è un bello accostamento in effetti diciamo che abbiamo fatto un lavoro secondo me che 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 ci ha portato ecco a sì in qualche modo ad essere trascinatori di del nostro sound anche poi a persone che magari non sono proprio affini ecco con il rock no però secondo noi siamo riusciti ad arrivare con delle sonorità no come un treno su un pubblico molto più e più variegato no dunque mi ci trovo ecco su questa sì senti mi potete dire mi puoi dire chi chi siete fare un riassunto della vostra biografia allora i monolite adesso siamo io vincenzo storm che sono il cantante il chitarrista e gialluca riccio che il batterista e fino alla realizzazione dell'ultimo ep che ancora deve uscire e ha collaborato con noi alessandro pellegrini dunque noi effettivamente diciamo veniamo concepiti come trio e però diciamo che adesso la forma i monolite l'essenza dei monolite il pensiero dei monolite è appunto portato avanti da me e da gialluca in generale noi ci conosciamo da il monolite nascono nel 2019 ma noi ci conosciamo anche da molto prima avevamo già un gruppo che suonava insieme con sonorità un po più rock anni 80 grunge così via e poi abbiamo deciso che nel 2019 era necessario rivedersi e in qualche modo ritornare e esprimerci no noi prima facciamo tutto quanto in lingua inglese e abbiamo poi virato su sull'italiano che era il linguaggio che più ci rappresentava e più ci dava la possibilità di esprimerci al meglio e nel 2020 abbiamo fatto un ep il primo ep che ha lanciato la band e adesso stiamo promuovendo il nuovo lavoro e come nascono le vostre canzoni ma le nostre canzoni diciamo un nascono in generale da da un pensiero uno stato d'animo poi tecnicamente per la maggior parte dei 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 brani sono io che un pochettino riesco già intercettare la linea vocale un po il sound e poi insieme a gialluca ad esempio andiamo a costruire tutto quello che è la sessione ritmica per poi andare a a realizzare il brano in maniera definitiva i testi chi li scrive? i testi vabbè diciamo li scrivo io nel senso che alcuni sono propriamente mie perché nascono dai miei dei come Marta che è l'ultimo singolo che è dedicato a mia figlia poi in altri contesti magari partiamo da un ritornello con scritto da un'idea da una frase e poi andiamo a costruire le strofe no? magari in maniera un po' più ricercata e più mirata però spesso e volentieri i ritornelli no? vengono un po' da dalla mia testa e poi andiamo a costruire quello che è tutto quanto il brano chi sono i... hai parlato prima del vecchio gruppo il grunge, il grunge, il rock anni 80 invece adesso chi sono i vostri riferimenti del passato? beh oddio non del passato un po' del recente prossimo passato prossimo nel senso sicuramente ci sta ispirando tutta la musica rock alternativa che c'è stata intorno agli anni 2000 come gli After Hour, gli Verdena, poi per andare sui Ministri tutta quella musica rock alternativa italiana e poi nel senso abbiamo influenze anche a livello internazionale anche molto più recente come i Royal Blood, gli Idols dunque sia tutta un panorama che è moderno, del rock moderno no? comunque che sentiamo che ci appartiene e cerchiamo poi di indirizzarlo nella nostra musica Marta come nasce? hai detto che è dedicata a tua figlia sì, Marta è il nome di mia figlia appunto e lo diciamo nasce più dall'esigenza di esprimere che dopo delle situazioni magari un po' più... meno felici ecco tutto quanto però può essere rigenerato da un amore, da un amore diverso come io quello che ho per mia figlia o altri tipi di amore no? in qualche modo è un brano che vuole darci una speranza e vuole... cioè vuole dire che la morte non è l'ultima parola no? perché io in qualche modo quel brano lo vado a scrivere dopo una verdita importante che ho avuto nella mia vita e che però poi è susseguita dalla nascita di mia figlia e dunque in qualche modo no? nel brano vengono intercettate le due fasi quella più buia e poi quella della luce quella della speranza no? quella che l'amore nonostante il mondo infame ci tiene sempre insieme ecco tu hai parlato di ispirazione ci credi all'ispirazione? in che termini? ci credo... nel senso che per scrivere le canzoni? eh sì per forza devi essere almeno ispirato da un'idea c'è un'idea che deve essere in qualche modo espressa e costruita poi ci sono secondo me vari tipi di canzoni o comunque sia varie modalità in cui vengono definite delle canzoni o un testo delle canzoni ecco Marta magari può essere più viscerale è più... è meno ponderata è più diretta è scritta sul momento sulle sensazioni del momento invece per esempio il nostro primo singolo pezzo pop era un pezzo che è stato costruito e sotto... all'interno di un'idea no? di una critica di... di... di un messaggio che volevamo dare ok? dunque... e cambiano un pochettino le... le dinamiche però c'è sempre un'idea cioè un'idea di bas... di... di fondo che è di esprimere proprio opinioni o le emozioni no? e dunque a seconda di cosa secondo me è necessario fare ci sono dei testi ci sono delle modalità differenti su cui puoi andare a... a... a lavorare sul brano ecco e invece per quanto riguarda gli arrangiamenti che tipo di arrangiamenti eh... prediligete? beh noi ehm... abbiamo un sound diciamo puramente rock anche se secondo... stiamo... stiamo strizzando l'occhio al... al pop e... dunque l'arrangiamento vabbè noi dopo il... il nostro primo lavoro siamo andati in... in... in studio insieme al nuovo produttore al nostro produttore... il nuovo produttore Michele Guberti a Ferrara a Natural Red Quarter che un po' ci ha... ci ha... ci ha indirizzato comunque sia... ha... ci ha permesso di condividere insieme un tipo di sound no? è un tipo di... sì di arrangiamento dunque da là noi stiamo un po' proponendo eh... un nuovo... un nuovo suono che secondo me si avvicina a sonorità modern rock anche le più recenti ora magari per più eh... e più vicini al rock italiano di Diego forse come Mineskin ok? però comunque... comunque sia è... è un suono rock che è... è mainstream no? che può arrivare anche eh... nelle radio... più... più titolate per proporre la... questa musica bene... senti un'ultima domanda... quali sono i vostri progetti? cioè... sperate di andare in tour eh... allora i nostri progetti sono... sono... sono tanti eh... li stiamo mettendo in... in... in piedi uno dopo l'altro no? eh... tutti in fila... noi... noi diciamo che siamo... dal nostro vecchio lavoro... eravamo bastati già quattro anni... dunque in qualche modo... ehm... ora... innanzitutto stiamo promuovendo... eh... la... il nuovo... il nuovo EP che... mh... sicuramente vedrà luce a fine di quest'anno... ora sono usciti due singoli... eh... al giugno ci sarà una chicchetta... un pochettino che... che... che lanceremo... eh... però non... non spoilerò nulla... però rimanete sintonizzati... e... più per di... più per quest'estate stiamo lavorando poi per il tour... che lancerà l'EP... no? dunque il tour per i club... questo autunno-inverno... e primavera... bene... senti... ci lasci i tuoi recapiti social... assolutamente... noi potete... trovarci... digitando... Monolite Rock... o su Facebook... Instagram... dove volete... e poi potete ascoltare la nostra musica... su tutti i distributori digitali... eh... da Spotify... Amazon Music... Apple Music... bene... noi ringraziamo Vincenzo dei Monolite... eh... e... grazie a te Luca... è stato gentile... e... simpatico... e... alla prossima occasione... ciao... sigla... buonasera... buongiorno... avete ascoltato un podcast di... Allora di Amadeus... alla prossima occasione... ciao...